Un cordiale saluto ed una buona giornata dalla redazione di Firenze Smart in studio Nicola Giannattasio. Sulla A1 in direzione Bologna, 3 km di coda per incidente tra Firenze Sud e Firenze Impruneta. In direzione Roma, code tra il Pivio Perla 11 e Firenze Impruneta e in uscita a Firenze Impruneta a causa di un incidente adesso risolto avvenuto sul raccordo Siena-Firenze in direzione Siena. Sulla A11 per traffico intenso in direzione Firenze, code tra Sesto Fiorentino e Firenze e Peritola, rallentamenti tra Prato Ovest e Firenze Ovest. Sulla Fipili per traffico intenso, rallentamenti tra Ginestra Fiorentina e Scandicci in direzione Firenze. Per lavori di messa in sicurezza del viadotto Ponzano, restringimento di carreggiata tra Empoli ed Empoli Est in direzione Firenze. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, città metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!